Come ogni lunedì, l'altro appuntamento di questo giorno e della settimana, che è arrivato oggi alla sua ultima puntata del 2021, perché ci sono i sondaggi che torneranno il 10 di gennaio. Allora, come andrebbe se si votasse oggi, ultima edizione 2021? Il Partito Democratico è ancora in vetta col 22,2%, più 0,1%, ma dietro, come vedete, c'è stato un cambiamento. Fratelli d'Italia lascia sul campo lo 0,5% al 19,7%, mentre la Lega guadagna lo 0,6% ed è al 19,6%. Le due forze della destra sono di fatto appaiate. E questo succede ai danni, tutto questo che abbiamo visto finora, del Movimento 5 Stelle che ripiega ancora dello 0,4% e scende sotto il 14% al 13,9%. Perde anche uno 0,3%, Forza Italia, al 7,4%. Azione, di caro calenda, 4%, più 0,2%. Verdi, 2,6%. Per la prima volta da quando abbiamo iniziato questi nostri sondaggi, se li vogliamo mettere simbolicamente in questo modo, i verdi sono nella prima pagina. La seconda pagina è aperta da sinistra italiana, l'altra forza di opposizione, 2,5%, più 0,3%. Italia Viva, 2,2% più 0,1% ed è davanti a MDP, articolo 1, l'EU, 2,2%, meno 0,1%. Stabile più Europa, l'1,5%, Coraggio Italia, di Toti e Brugnaro, 1%. Questo per quello che...